Non sapete come cucinare la zucca? Provate queste crocchette, sfiziose e leggere perché cotte in friggio e frisce ad aria, quindi con pochissimo olio. Facili da preparare e piaceranno anche ai più piccoli. Questa cottura ci permette di ottenere una crosticina croccante come la tradizionale frittura. Le crocchette avranno un colore davvero meraviglioso e invitante e potranno essere più o meno saporite in base alla quantità di formaggio che ritenete opportuno mettere. Utilizziamo 500 g di zucca, il peso si riferisce alla zucca già pulita quindi privata della buccia, 50 g di formaggio grattugiato, del pan grattato all'incirca 130 g, 80 g di scamorza, un uovo e delle foglie di salvia che possono essere fresche o secche. Priviamo la zucca della sua buccia, di semi e filamenti la tagliamo a fette oppure a cubetti. La disponiamo su una teglia coperta da carta forno e cuociamo in forno statico a 200 gradi per circa 20 o 30 minuti, dovrà diventare morbida. A quel punto spegniamo e lasciamo intiepidire. Se utilizzate una tipologia di zucca un po' più acquosa lasciatela scolare prima di utilizzarla. Nel caso contrario potete procedere spostandola in una ciotola e schiacciandola per ridurla in purea. A questa purea aggiungiamo sale quanto basta, pepe nero, salvia sminuzzata, l'uovo intero, il formaggio grattugiato e il pan grattato. Aggiungiamo il pan grattato poco per volta perché la sua quantità può variare a seconda proprio della zucca più o meno asciutta. Dobbiamo ottenere un composto morbido ma non troppo appiccicoso. E adesso possiamo formare le crocchette, quindi preleviamo un po' di composto, lo schiacciamo sul palmo di una mano e al centro aggiungiamo uno o due pezzetti di scamorza. Chiudiamo e diamo la classica forma alle crocchette, quindi un po' allungate. Passiamo adesso ogni crocchetta nel pan grattato per una panatura veloce e le andiamo a disporre tutte sulla teglia della friggitrice ad aria oppure sul cestello. Bagnandole con un filo d'olio, se abbiamo uno spruzzino ancora meglio. Cuociamo a 200 gradi per circa 15 minuti, il tempo necessario a far sciogliere il formaggio all'interno e ottenere una doratura uniforme. Le crocchette di zucca devono essere mangiate ben calde e filanti. potete anche prepararle in anticipo, tenerle in frigorifero e poi cuocerle poco prima di mettervi a tavola. E per delle crocchette ancora più morbide, alla purea di zucca aggiungete anche delle patate bollite. Provate entrambe le versioni e fatemi sapere quale preferite nei commenti. Io vi aspetto sui nostri siti cibodoc.it e vivomangiando.it con tante altre ricette.